ladies and gentlemen all young people this is showtime a belle casa belle mia iscrivetevi al canale abbonate al canale al profit se non vi piace quello che dico me lo dico la vita al canale in un momento della democrazia è come il mio tempismo per venire in italia che vengo l'undici invece che il dieci vabbè vi lascio fare come vi pare a belle mia buon anno avete festeggiato bene siete stati bravi avete fatti i bravi dove siete fatti leva la patente spero allora si avete capito arrivo al 12 bravo ragazzi la vita ci sarà la mia cuginetta la mia brigata a sostenere ragazzi così è vabbè ma prima di mercoledì che ne parleremo appunto il giorno prima che sarà il nostro compleanno c'è da affrontare una partita molto importante una trasferta insidiosa a udine un udinese che dopo aver strapazzato un bel bologna a udine cioè bologna non era bella udine però ma saraga secondo la mia modesta questa aperta e chiusa parentesi che furto che gli hanno fatto ieri al bologna stanno troppo su eh e non facciamo i sordi col bologna via giù tutti giù ragazzi c'era quel c'era quel fuori gioco che si vedeva occhio nudo ci hanno messo un quarto d'ora per di che erano fuori gioco quando stavano a perdere vabbè vabbè a varre sempre peggio posso parlare di varre quando non parliamo di lazio la varre secondo me danno quel rigore che non gli hanno dato a loro vabbè comunque mamma tanto è tutta la buffonata ste var contro var allora ragazzi udinese lazio l'altro anno ero presente l'altro anno ero presente e vi devo dire che a me lo stadio dell'udinese è già un vabbè come si chiama lì mi piace mi piace anche quello spicchio dove si vedono le nostre alpi sapete che io sono un romantico che manca l'italia quindi tutto quello che mi fa vedere la nostra italia mi fa mi fa innamorare quindi gran bello stadio saluto il mio amico padelli grandissimo amico dai tempi del del toro che ci conosciamo niente ragazzi è una partita importante senza senza kamada scusatemi senza luisa alberto però troviamo kamada sempre più triste perché non convocato dal giappone c'è da dire che però ha vinto una partita c'era pure il poro kamenovic che stava quasi mezza rite quindi quindi senza luisa alberto senza immobile credo ancora senza perché non giocano più nel casale non agnoli spero qualcuno rientri anche se loro la un po mi spaventano un'altra partita cruciale ragazzi cruciale per il campionato cruciale per poi mercoledì è tutto cruciale dire che dobbiamo vincere è poco sfortunatamente diciamo che c'è quasi i giocatori non vi dico contati però che anzi io speravo non solo meritavo a nessuno né quelli d'alasso né quelli da roma un altro del venice dell'anno che proprio la guerra dei poveri proprio non so che c'è l'utinese ma ci aiuta gica e c'è gica è la che comunque ragazzi niente domani alle nove saremo presenti qui a new york nove di mattina ci sarà anche il grande mattia briga con noi a sostenere la lazio allora se possiamo fare andare su ti fare mi sono vicino ci risentiamo presto perché il compleanno il derby ma io bene e ricordate che noi volamo e l'artistricciano ma che anzi non so che